Ciao a tutti, oggi prepariamo una pasta alla norma non tradizionale, questa è una variante della mia famiglia. Gli ingredienti sono melanzane viola, cipolle rosse, sale, zucchero, polpa di comodoro a pezzettoni, olio extravergine di oliva, olio di semi di arachidi per friggere e ricotta salata o infornata. Pulire la melanzana togliendo le estremità e tagliarla a fette. E quindi a cubetti. Mettere le melanzane in uno scolapasta, salarle leggermente, mescolarle un pochino, coprirle e tenerle per 30 minuti a riposare coperte da un peso. Pulire le cipolle e tagliarle a fette abbastanza sottili. Metterle in un tegame, aggiungere l'olio extravergine di oliva, rosolarle a fuoco basso finché non appassiranno. Aggiungere i pomodori, la punta di un cucchiaino di zucchero, il sale e cuocere finché il sugo non sarà ben ristretto. Friggere le melanzane fino a doratura. Unire le melanzane al sugo e lasciare insaporire qualche minuto. lessare la pasta, scolare la pasta bene al dente, unirla al sugo di melanzane, un po' di ricotta salata e il piatto è pronto. Buon appetito!